Si racconta che il commissario comunale Giovanni Arnone sia andato su tutte le furie, ma ora, smaltita la rabbia, tutto procederà come al solito nel disastrato comune di Alcamo. L'ultima vicenda, in ordine di tempo, riguarda l'ennesima, definiamola bonariamente disattenzione. Ebbene, il Consiglio comunale, durante l'approvazione del bilancio di previsione 2015, impegnò la somma di 40.000 euro per acquistare una caldaia e ripristinare l'impianto di riscaldamento al Teatro Cielo. Ma anche per il 2016, gli alcamesi, abituali frequentatori del teatro, grazie alla saggione varata dalla cooperativa Piccolo Teatro, dovranno munirsi di indumenti pesanti, perché, esaltato, si ne die, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Infatti, pur essendo disponibili 40.000 euro, l'ufficio comunale competente non ha provveduto ad adottare la determina entro lo scorso 31 gennaio per la scelta del metodo di gare, per come è avvenuto, grazie ad Ignazio Caldarella, per i lavori 2 milioni e mezzo alle sorgenti e condutture di Cannizzaro che potranno essere spesi. I 40.000 euro per il riscaldamento al Teatro Cielo d'Alcamo invece no. Semplice distrazione dell'ufficio. Forse l'ufficio, con il suo personale, obberato da pile di pratiche, non è arrivato a quello per la caldaia all'euro. Chiedere di fare chiarezza forse è tempo perso, perché si innescherebbe una sorta di scarica barile. Ma è giusto che questa ennesima disfunzione venga portata a conoscenza dell'opinione pubblica alcamese da tempo amareggiata per una burocrazia che, senza alcun controllo e direttive politico-amministrative, spesso brilla per assenza. A pagare per i disagi e per problemi pur semplici irrisotti, leggasi caldaia al teatro, come al solito sono gli alcamesi, tra l'indifferenza di buona parte della classe politica, consiglio comunale imprimessi, dove personaggi pochi conosciuti hanno conquistato uno scranno dal palazzo di città, ma paiono destinati al ritorno nell'anonimato dal quale uscirono con le ultime amministrative.